Eremo di Santrano Area picnic Eremo di Santrano e San Nicolò Entriamo E andiamo a vedere come è dentro E' graziosissimo E' un piccolo eremo Che sovrasta Praticamente A città di Lugosanto Come potete vedere lì Tutto incastonato nel granito Guardate che roba E' bellissimo Da qui c'è un'altra uscita Adesso usciamo e vediamo un attimo Che cosa si vede da qui Panorami Panorami a non finire Qui è tutto un panorama Guardate qua che roba Una vista Da sogno Quella lì è Lugosanto Tutta la Sardegna E' composta da diversi massi Rocce Granitiche Che a volte assumono forme Abbastanza inaspettate Questa è una di quelle Da una diversa angolazione Può assumere significati diversi E ognuno ci vede Ciò che vuole Ovviamente Lasciamo questo posto magico Dentro c'è davvero un'atmosfera Molto particolare Si sente proprio Tutto scavato in granito Tutto all'interno di un granito L'altare in granito Come avete potuto vedere E' tutto molto 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 interessante Molto molto bello Sicuramente ne vale una visita Ci potete arrivare in macchina Potete parcheggiare proprio qui sopra I problemi Non ce ne stanno Una visita è più che meritata